Tempo di regali su Arte per Te! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te! Oggi un nuovo video dedicato ai regali di Natale I regali di Natale dedicati a chi ama l'arte e che potete trovare anche in tutti i negozi sotto casa in tutti i negozi di belle arti non necessariamente soltanto su Amazon o su internet un po' di suggerimenti anche un pochettino più costosetti rispetto al video precedente ma di più facile reperibilità Cominciamo subito, cominciamo proprio come vi ho lasciato il primo regalo che vi suggerisco è comune ad entrambi i video che ho fatto su questo genere sono i miei libri, non potete non avere sotto l'albero da regalare almeno un paio di questi se non sapete cosa regalare a vostro padre per esempio a tutto, avete regalato tutto e volete però condividere con lui un momento relativo alla vostra passione dedicate il grande libro del colore potrebbe essere quel regalo che mette il punto di unione tra voi a cui piace l'arte e le persone che non si intendono di questa disciplina potrebbe essere un modo non troppo invadente per avvicinarli al mondo dell'arte e fare capire il vostro mondo di cosa è fatto, di colore bene, il grande libro del colore è un libro che ha la presunzione di rivolgersi a tutti non soltanto agli amanti dell'arte, agli addetti ai lavori ma proprio ha la volontà di avvicinare questi due mondi il mondo normale, quello che è privo della vena artistica diciamo così, ahimè purtroppo è il mondo di noi creativi l'ho immaginato da regalare per esempio a tutti quei parenti che non capiscono quello che facciamo è il piacere che troviamo nel fare quello che facciamo bene, fate trovare il grande libro del colore potrebbe spiegare loro in termini pratici e facili cosa noi ritroviamo nel colore e Magia delle Magie potrebbe far catapultare anche loro in questo bellissimo mondo il grande libro del colore infatti non è un libro dedicato soltanto a chi dipinge ma è un libro pregno di curiosità, storia, cultura indicazioni su come usare o non utilizzare il colore bene, io vi aspetto in tutte le librerie sia fisiche che online e vi suggerisco veramente di regalare questo libro non soltanto perché l'ho scritto io ma perché è un libro che avvicina e fa comprendere meglio il mondo del colore dando una nuova lettura a una realtà che abbiamo sempre sotto gli occhi con meno di 20 euro un bel regalo un libro fa fare sempre bella figura poi se di ombretta è garantito no? e allora un bel libro sotto l'albero per tanti tanti dei nostri parenti a cui non sappiamo cosa regalare ecco questo è il regalo perfetto per tutte quelle persone a cui non sappiamo cosa regalare con meno di 20 euro un bel regalo che sicuramente interesserà in qualche maniera se invece avete degli amici che sono invece quelli che si vogliono sporcare le mani non dimenticate che in tutte le librerie trovate anche la ristampa del ricettario dell'arte il libro in cui sono custodite tutte le mie ricette di moltissimi moltissimi materiali delle belle arti e della creatività un libro unico nel suo genere una raccolta immensa di ricette paste modellabili tutti i tipi di colori tutti i tipi di vernici i solventi qualunque cosa riguardi la creatività il restauro la pittura è probabile che la troviate qua dentro vi aspetto in tutte le librerie con i miei tesori due libri da avere in biblioteca le vostre biblioteche non sono complete senza loro due sappiatelo avete un amico artista e volete stupirlo o quello che fa per voi regalategli questi i furless della Nicholson's cosa sono a vederli così cosa sono delle figurine delle cartine no sono degli acquerelli come degli acquerelli si degli acquerelli in foglio è da un po' che ve li ho fatti vedere sul canale ve li ho fatti vedere più e più volte ve li faccio rivedere sono tagliati perché io li ho usati per fare una palette ecco queste sono delle cartine acquerellate con del colore che basta di sciogliere col pennello e l'acqua sprigionano una quantità di acquerello incredibile comunissime per delle palette da viaggio con questi farete felici e incuriosirete i vostri amici artisti non costano particolarmente tanto e sono sicura che voi magari che non siete praticissimi del mondo dell'arte riuscirete a fare rimanere a bocca aperta gli artisti che molto spesso non li conoscono e che rimarranno stupiti dalla loro potenza cromatica acquerelli stupendi piccolissimo packaging novità perché non si vedono tanto in giro sorpresa cosa volete di più da un regalo da fare un artista bene questi ve li suggerisco e se siete come me amanti dell'acquerello mettetelo nella vostra vista dei desideri perché sono veramente belli da possedere come sono belli da possedere una bella confezione di colino pearl color i colino pearl color sono dei colori bellissimi una potenza cromatica mai vista con nessun altro colore perlato io questa confezione ne ho anche un'altra ma ce ne sono veramente tantissime tantissime combinazioni di colori perlescenti hanno queste pasticcone non sono dei godè sono proprio delle pasticcone di colore delle vaschettine immense che durano un sacco e sono con una carica cromatica pazzesca fanno brillare fino alla luna i vostri acquerelli perfetti per dare delle perlescenze intense movimentate super pagliuzzate bellissimi fate una figura meravigliosa a regalare un astuccio di questi perché anche questi non sono di facilissima reperibilità in Italia questi li trovate più su Amazon devo dire ma arrivano in tempi brevissimi e sono veramente veramente bellissimi consigliati super consigliati come un regalo meraviglioso è una palette da portare con sé una palette da viaggio cos'è una palette da viaggio? io vi faccio vedere questa della Tintoretto ma ce ne sono di tantissime case questa è soltanto indicativa o questa ve la faccio vedere guardate che belle di solito vengono appunto custodite in una custodia in velluto e sono in legno al loro interno si aprono in diversificati modi le troverete vuote perché sono da personalizzare con i godè appunto preferiti dai vostri fortunati amici a cui dedicherete questo regalo quindi questa l'ho composta io ma solitamente arrivano vuote e hanno anche la vaschettina per diluire i colori da una parte mentre nell'altra parte vengono custoditi tre pennelli con cappuccio appunto da viaggio per esterni questa della Tintoretto è bellissima un legno stupendo dei pennelli martora veramente molto molto bella tutta made in Italy super compatta la mettete in borsa e avete con voi un piccolo compendio d'acquarello da portare sempre con voi a me piace molto anche l'idea di comporre con i miei colori preferiti poi la mia palette quindi qualora a me piacesse che ne so Winsor & Newton mettere all'interno godè della Winsor & Newton se mi piacesse la sminche mettere all'interno dei godè della sminche tanto hanno tutti la stessa grandezza e fare un regalo in questo caso veramente veramente elegante vi do anche una chicca in più se volete personalizzarlo portatelo da un qualunque in un qualunque negozio che lavori il legno o il cuoio e vi fate anche incidere una dedica sul retro per rendere personalizzato un regalo che già di per sé è elegantissimo quindi tenete come regalo di Natale una cosa che solitamente un artista per sé non compra perché noi siamo sempre con il portafogli tiratissimo perché tutti i materiali costano un botto quindi il superfluo evitiamo di comprarlo bene questa può essere la coccola in più per il vostro amico marito moglie artista da regalare e magari personalizzare per i più giovani ma non solo vi suggerisco un set da brush lettering allora in giro ce ne sono tanti io qui ho preso due cose a caso che avevo nel mio studio ma potete comporli come li volete io ho preso un set molto facilitante che è questo della Stabilo i pen 68 brush edition cioè proprio fatti con la punta flessibile per il brush lettering in questo periodo si usa molto il bullet journal il brush lettering questi sono set super super moderni questo della Stabilo devo dire funziona molto molto bene è molto versatile a me piace abbinarli sempre cioè non regalarli è solo ma piace abbinarli sempre con un quaderno da brush lettering da journal quali sono questi quaderni i quaderni totalmente bianchi quindi senza nessuna scritta dentro oppure se li trovate io ne ho qualcuno non l'ho preso ma ce l'ho i quaderni quelli con i puntini che segnano appunto l'andamento delle lettere allora scegliete quaderni a puntini per i principianti quaderni assolutamente senza righe per quelli che sono più avvezzi già a questa tecnica questo per tutti i ragazzi per un regalo è un regalo molto giovane ma molto molto apprezzato per i giovani creativi ve lo super consiglio il mio quaderno è un quaderno di lusso è un quaderno della Honey Mule che è veramente uno un bellissimo quaderno cappuccino con i toni cappuccino guardate che bello ma ci sono di bianchi di diversificati colori insomma potete sbizzarrirvi nella scelta del del quadernino da unire al set di colori più che le marche in questo video comunque vi sto sottoponendo i top di gamma pensate all'idea come per esempio un bellissimo regalo per chi dipinge è un cavalletto cavalletti ce ne sono di diversificate forme diversificate misure dal cavalletto da campagna che è un cavalletto super esile ma robustissimo che si chiude in un fagotto poco più grande di un ombrello al cavalletto da tavolo molto comodo per chi non ha grandi spazi fino ad arrivare al cavalletto treppiedi classico che è quello che uso io abitualmente per intenderci o il mega meraviglioso cavalletto da studio quello è proprio un oggetto costosissimo possono andare dai 700 euro ai 30 euro quindi avete un range di spesa veramente enorme vi metto più di qualche link qui giù in infobox pensateci al cavalletto il cavalletto è bello anche per disegnare con uno stiratore dietro cos'è uno stiratore una tavola di legno sottile su cui poggiare disegni quindi un cavalletto dà l'idea che voi appreziate quello che fa il vostro amico artista tanto da supportarlo con un compendio di creatività veramente importante pensate a un cavalletto come stupendo regalo di natale altro set bellissimo da disegno è un set di penne micron e in questo caso sarò dettagliatissima micron micron solo queste nessun'altra sono della prestigiosissima marca Sakura e sono le penne da disegno migliori al mondo allora ci sono tante penne da disegno ma l'intensità la precisione la nitidezza di queste è difficile raggiungerla poi potete comprarle stedler potete comprare di qualunque marca il vostro portafogli desideri però se volete fare il regalo quello da cascata di mascella a spacchettamento questo è quello che fa per voi le micron sono le migliori nel video precedente quello low cost ve ne ho suggerite anche delle low cost molto buone sono ottime ma se i vostri amici se la persona a cui volete fare questo dono è una persona che usa le penne da tanto tempo e volete regalargli qualcosa che sapete che è sicuro sicuro lui apprezzerà sopra ogni cosa bene le micron non vi faranno fare mai brutta figura perché anche se dovesse già possederle il vostro amico la vostra persona a cui le destinate sarà felice di averne un'altra confezione al solito anche qui vi consiglio di accompagnarlo con un mini book in modo da rendere subito pratico il regalo regalare delle penne senza un posto su cui usarle rimane sterile invece fate capire che il vostro regalo è veramente pensato rendendolo completo questo è un piccolissimo book è un book dell'anemiule lo apro con voi questo è un piccolo book a 6 200 grammi bellissimo con questa carta tonalizzata guardate che bello col suo elastichino la copertina di stoffa griffata anemiule veramente una cosa piccola ma preziosa la carta 100% cotone meraviglioso meraviglioso vedete che questo è lusso allora questo regalo è un regalo che vi farà acquistare 200 punti agli occhi di chi lo riceverà perché capirà che è un regalo fatto per fare una cosa bella è completa quindi suggerito naturalmente potete combinarlo nelle variegate forme della vostra creatività e del vostro portafogli se il vostro amico è un pittore o la persona io dico il vostro amico vabbè se la persona a cui volete fare il regalo è un pittore bene andate sul sicuro regalategli un bel set di colori olio acrilico gouache quello che utilizza lui saprete sicuramente la tecnica che utilizza o anche se non la sapete fregatevele regalategli la tecnica che trovate tanto se un pittore non avrà problemi a sperimentare e allora questo per esempio è un bellissimo set andato fuori produzione non lo trovate in commercio di colori ad olio ma un colore un set di colori ad olio così sette bei tubettoni di colori ad olio vi fanno fare una gran bella figura vengono venduti in scatole li trovate di varie marche ma i meri le frank windsor e newton quella che preferite e fate un gran bel regalo davvero stessa cosa come vi dicevo set di colori questo della my mary per la gouache ad esempio ci sono dei set così molto belli il mio è sporco scusatemi ma che vi fanno fare veramente una grandissima grandissima figura se la persona a cui volete regalare sapete utilizza la tempera la gouache l'acquerello questo è un set che piacerà sicuramente quindi un set di colori di qualunque tipo l'unica cosa è che se conoscete abbastanza bene la persona saprete meglio verso quale tipo di colore indirizzarvi regaliamo qualche matita e allora quali matite bene ce ne sono di diversificate per matite colorate da una prestazione eccezionale io sicuramente sempre su tutte vi consiglio le prismacolor sono le mie preferite in assoluto quando non si parla di matite acquerellabili sono matite molto grasse molto mescibili tra di loro stupende una gamma colori eccezionale veramente le matite migliori che io conosca o meglio che con la mia mano performano meglio mi piacciono le matite grasse pregne di pigmento molto vivide che sono facilmente blendizzabili quindi veramente stupendo un set così già è un signor regalo ci sono sia più piccoli che anche più grandi scegliete voi quello riferito al tipo di regalo che volete fare ma questo vi farà fare sicuramente un'ottima ottima figura così come un'ottima figura vi potrebbe far fare il mio vecchissimo un set di avviamento al disegno un set di disegno per disegno in bianco e nero per chiaro scuro quindi matite della gamma b in tutte le declinazioni carboncini gomma pane temperino li vendono di 200 milioni di marche il mio è super utilizzato il migliore che io abbia mai utilizzato è questo della derwent ma ce ne sono della faber castel della lira di tutte le marche delle matite della sedler di tutte le marche e ha diversificati prezzi se per esempio volete fare un regalo a un ragazzo una ragazza che ama disegnare e che è molto giovane per esempio questo è il regalo che fa per lui anche perché se un domani dovesse scocciarsi di disegnare potrebbe utilizzarlo tranquillamente per la scuola quindi è un bellissimo regalo da avviamento all'arte o per tutte le persone che sapete amano disegnare a chiaroscuro stupendo contiene anche le terrecotte contiene anche la sanguigna la matita bianca quindi un set super completo che fa fare una gran bella figura per gli amanti del disegno se invece volete regalare qualcosa che non costi particolarmente tanto ma che sia di altissima qualità e che vi faccia fare una figura buona e che può essere usato sia per la belle arti che per il disegno quindi un disegno scolastico quindi in qualche modo non vada mai sprecato o se va sprecato impacchettatelo e speditelo a me perché io più ne ho meglio sto è la mia drona l'estabilo acqua color l'estabilo acqua color sono le matite secondo me più azzeccate del mondo delle belle arti allora hanno una buonissima capacità di coloritura da secche cioè così usate come i colori normali ma diventano sublimi nell'utilizzo dell'acquerellatura sono spettacolari vivide danno vita ad acquerelli di un fresco di una bellezza incredibile costano niente per quello che sono questa è la confezione dell'axe con la latta ma ci sono anche nella confezione in cartoncino e costano sugli 8 euro 10 euro proprio un'inezia quindi se per qualunque persona ami disegnare dal bambino all'adulto più navigato queste sono matite eccezionali spiegatela questa cosa magari se le dovete fare questo regalo a una persona più avvezza al mondo delle belle arti perché potrebbe sottovalutarla ma diteglielo ti ho voluto fare provare queste matite perché so che sono di una qualità pazzesca regalerete non soltanto un bellissimo pacco di matite una bellissima confezione di matite ma regalerete una scoperta che non abbandonerà più la persona a cui farete un dono quindi questo è un dono che va oltre il dono e costa anche poco pensateci sempre nel comparto disegno un altro materiale bellissimo da regalare sono i pastelli i pastelli sono quell'oggetto che unisce il disegno alla pittura è quel momento di transito del lasciare la certezza del gesto guidato dalla mano della matita e passare allo strusciare su un foglio su una tela il pastello è il primo passo verso la pittura ricordatevelo sempre quindi se avete qualcuno che è propenso al disegno ma che ancora non ha mai dipinto questo è il regalo più bello che voi possiate fare un pacco di pastelli questi che io non li producono più perché li producevo una casa che non esiste più ma ci sono di tantissime marche anche qui Winsor & Newton Lefranc la Maison 2 Pastel se volete fare un regalo eccezionale la May Mary qualunque 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 negozio di belle arti avrà almeno 5 marche di pastelli da sottoporvi per 5 portafogli diversi scegliete quello più adatto alle vostre possibilità e regalate uno step in più alla vostra persona che disegna perché da disegno la state facendo transitare verso il mondo del libero creare quindi della pittura questo è un bellissimo bellissimo dono una cosa che si presta poco ma che è molto utile sono i pennelli allora voi mi dite ombretta che marche di pennelli mi consigli io sopra ogni cosa vi consiglio i tintoretto perché sono made in italy e sono dei pennelli stupendi ma pennelli ce ne sono di veramente tantissime marche io conosco molto bene anche i pennelli da vinci conosco molto bene i pennelli michelangelo ce ne sono tanti fatevi consigliare dal vostro negoziante se non volete spendere tanto allora se volete spendere bene andate sui tintoretto questo non è perché io ho collaborato in passato con la tintoretto ma perché proprio così sono pennelli molto buoni se invece volete dei pennelli comunque buoni ma che abbiano un occhio di riguardo anche per i portafogli anche se io non penso che gli tintoretto costino particolarmente tanto fatevi guidare dal vostro negoziante regalate un bel set di pennelli certo se dovete regalare dei pennelli low cost ve li ho suggeriti nel video precedente se dovete regalare dei pennelli da medio ad alto costo allora fatevi indirizzare dal negoziante ma ricordatevi che per i medio costo i tintoretto hanno poca poca concorrenza sono veramente un ottimo ottimo prodotto poi per il tipo di pennello dipende dalla tecnica allora lì vi fate suggerire dal negoziante pennelli da acquarello pennelli da olio pennelli naturali pennelli sintetici io per accordare tutti vi suggerisco sempre dei pennelli in martola sintetica sono flessibili sono morbidi e si adattano a tutte le tecniche ultima cosa le carte i blocchi per chi disegna una cosa che non basta mai è la carta possiamo averne 200 di blocchi ma sapremo che prima o poi più prima che poi termineranno quindi se volete fare un regalo sempre gradito di sicura riuscita regalate un blocco di carta se volete distinguervi regalate un blocco di carta particolare un 100% cotone ad esempio per chi acquarella o un blocco di carta specifico per una tecnica che sapete essere quella utilizzata dalla persona a cui volete fare il regalo bene tra tutti vi suggerisco una carta trasversale questo qui questo è un 50% cotone voi avete detto adesso direte come ombrette un 100% cotone sì per l'acquerello ma se volete se non sapete che tecnica usa la persona a cui volete regalare il blocco o se sapete che usa diversificate tecniche umide ma anche tecniche secche un 50% cotone è perfetto perché accoglie differenti tipi di tecnica acquerello olio acrilico ma anche pastello disegno quindi matite colorate pastelli penne questo per esempio è bellissimo perché della fabriano che è un top di gamma italiano quindi è la carta assolutamente che io suggerisco in assoluto la migliore in assoluto la migliore non ha concorrenza però quello che mi piace anche è che ha dei fogli per esempio questo ha dei fogli crema quindi quel tocco di eleganza in più se posso suggerirvi due o tre blocchi potete regalarli per un bel regalo arriverete a spendere più di 100 euro ve lo dico sin da adesso però è un regalo importante che capite bene per le tasche di un artista pesa pesa comprare la carta pesa quindi pensate ai blocchi e farete un'ottima ottima figura molti pensano ma che regalo quattro blocchi di carta bene gli artisti sanno che regalo state andando a fare quindi la carta è un ottimo regalo di natale bene e allora questi i miei suggerimenti naturalmente il migliore tra tutti il ricettario dell'arte o il grande libro del colore vi aspetto mi raccomando non mi deludete grazie per chi lo comprerà spero con questo video di esservi stata super utile per un natale che lascia a bocca aperta i vostri amici anche sotto l'albero io vi do appuntamento sempre qua per un nuovo video creativo da ombretta e da arte per te è tutto ci vediamo la prossima volta ciao ciao